Un viaggio in un'India antica, autentica, alla ricerca della tribù degli Ananda, bambini, forse fantasmi, che hanno scelto di vivere liberi. Racconta un intenso cammino spirituale, Ananda, il docufilm di Stefano De Fenu, presentato ieri in prima assoluta al Cityplex di Sassari, dove rimarrà in programmazione fino a domenica. Per la prima volta alla regia, l'attore e sceneggiatore sassarese, classe 1978, ha curato la direzione della fotografia e il montaggio e ha scritto la sceneggiatura insieme a Bonifacio Angius e Pier Obino, l'amico con cui entra preso il viaggio nel 2011 dalla grande capacità di farsi aiutare da tutti. Lungo il tragitto, che porta a visitare diversi villaggi e a conoscerne culture e leggende, si segue un percorso parallelo all'interno dell'animo di De Fenu, la cui voce narrante esprime disillusione, ma anche la voglia di andare avanti, perché quel che conta è ciò che si scopre mentre si cerca. Gli Ananda sono un attributo di bambini che hanno deciso di vivere da soli, rappresentano un mondo diverso di vivere e anche una speranza, un'utopia per un cambiamento anche nel mondo. C'è un percorso all'interno della voragine del dolore, quello che scorre nelle vene quando si perde il sangue del proprio sangue, l'elaborazione del lutto, che trova pace nella capacità dell'assenza di farsi presenza. L'intensità del docufilm è esaltata dalla colonna sonora composta da Luigi Frassetto e Francesco Simola, presenti ieri durante il saluto del regista alla sua città accanto a Domenico Montigi e Bonifacio Angius, che con il monello film cura la distribuzione della pellicola. Il percorso di Ananda da oggi prosegue in tutta Italia, è una storia che il destino ha voluto a tutti i costi venisse raccontata. Tutto il materiale girato infatti era stato rubato, andato perso e poi, dopo tre anni, è stato restituito perché trovasse la sua voce. Dobbiamo tornare a sorridere, a danzare come il popolo di Malana e questo può essere o qui o in una terra lontana, però deve essere un posto pieno di sorrisi e di colori.